Il Teramo incespica sul Sant'Arcangelo, anzi ad onore del vero senza lo spunto di Mirko Petrella a 9 dal novantesimo i biancorossi starebbero ancora a leccarsi le ferite, perché i romagnoli sono temibili e lo si sapeva, ma la serenità offensiva del diavolo continua a palesarsi in maniera abbastanza preoccupante. E così la coppia forte Petrella schierata dal primo minuto non punge, così come fanno gli ospiti in avvio, salvati dalla chiusura tempestiva di Perrotta. Forte al tredicesimo scalda i guantoni da piazzato di un attento Nardi bravo a dire di no alla botta sul palo di competenza. La squadra di Zauli è viva, Venitucci al ventunesimo sfiora in ripartenza il palo di Tonti, dall'altra parte il terocross sbilenco di Alessandro Di Paolo Antonio non crea grattacapi ai gialloblu. Ma è sul finire di tempo che la partita prende una piega sfavorevole ai biancorossi. Nel giro di un minuto Forte sciupa clamorosamente il servizio al bacio di Petrella facendosi chiudere da Nardi. Nemmeno un minuto e Margiotta vince l'uno contro uno con Caidi e fulmina col diagonale l'estremo difensore di casa per la rete del vantaggio dell'undici di Lamberto Zauli. Rientrato dagli spogliatoi il Teramo prova ad aprirsi un varco nella retroguardia romagnola. Petrella non inquarra lo specchio della porta ma senza l'angolo giusto per provare a far male. Allora i biancorossi ci provano dalla distanza. Cenciarelli dal limite fuori, Cruciani invece la porta la prende ma in maniera fiacca. Vivarini inserisce Moreo prima e Cecchini poi con quest'ultimo che ad un quarto d'ora dal termine dà solo l'impressione del gol ai suoi, pallone al lato di pochissimo. Ma è solo il preludio del gol che arriva al minuto 82. Petrella spostato sulla fascia destra rientra sul mancino. La sua conclusione deviata da Rossi diventa imprendibile per Nardi ed è il gol che vale la parità definitiva. Perché nonostante il Teramo ci provi fino alla fine per l'assalto conclusivo, altri gol non arriveranno. Le due squadre continuano dunque a viaggiare a braccetto ma è chiaro che classifica la mano il punto è solo un brodino per entrambe le formazioni.